Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema che quando andate a vedere la barra dell'audio che si alza e si scende però non si sente l'audio in questo caso io ho risolto in un altro modo quindi sono andato nelle impostazioni audio sono sceso fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio e questo è il mio monitor LG Full HD che quando vado a mettere prova non si sente ok? non si sente l'audio si sente proprio quindi da telefono ti farò vedere come risolvere questo problema quindi in questo caso io questo qua come puoi vedere questo è il mio monitor LG Full HD se io adesso vado a fare una prova di audio le barre, se vado a fare una prova le barre si alzano, si scendono su questo monitor perché non si sente niente quindi io ho provato a collegare delle casse al monitor e si è sentito tutto quindi questo è il mio cavo, quindi jack audio delle casse lo provo a collegare al monitor LG Full HD che sarebbe quello quindi datemi un attimo che collego le casse ok, una volta collegate queste casse non mi resta che fare di nuovo una prova ok, l'audio si è sentito si è sentito di nuovo ed eccolo qua quindi come avete visto in questo caso se avete altri problemi tipo che non si sente proprio l'audio perché non è proprio connesso il cavo come puoi vedere c'è una freccia in basso che vuol dire che non è proprio collegato al pc e questo invece che è collegato ma è disabilitato ok, quindi se c'è una freccia nera su un pallino bianco clicchi sopra e fai abilità e abiliti così il dispositivo se in questo caso c'è una freccia rossa sul pallino bianco vuol dire che non è collegato quindi vanno collegati i cavi il jack audio al pc quindi per altri problemi commenta cercherò di aiutarti al meglio quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema della barra che si alza e si scende però non si sente proprio niente nel monitor quindi in questo caso il monitor lo avete c'è pure l'impostazione dell'audio però non si sente quindi andavano per forza delle casse quindi casse collegate al monitor io così ho risolto e sono riuscito poi a giocare a guardare il mio film o qualcos'altro quindi l'audio si è sentito quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao